Cosa rimane di questa esperienza a San Siro? Rimane che siamo riusciti a metterli in difficoltà e a tenere botta per 120 minuti e dopo la lotteria dei rigori diventa imprevedibile. Penso che abbiamo fatto una grandissima prestazione e orgogliosi di aver regalato un piccolo sogno a una città intera. Ora riposiamo, domenica ritorno al campionato che è il nostro grande obiettivo. Immagino ti porterai stanotte in sogno quel palo? Sì, diciamo di sì. È stato bravo il portiere, ha fatto una grandissima parata. Il Pordenone dunque riparte dall'arenate sognando la B? Assolutamente sì. Domenica andremo a arenate per cercare di portare a casa tre punti visto che qualcuno davanti ultimamente sta un po' rallentando. Noi dobbiamo essere bravi a approfittarne per avvicinarci visto che adesso il giro di Boa si avvicina e siamo pronti. Grazie. Grazie.